La regolarità contrattuale è elemento necessario per garantire l'offerta di servizi di qualità nel settore turistico? Il settore del turismo ha bisogno di una buona contrattazione che non solo esaurisce i suoi aspetti a livello nazionale ma ha bisogno di una contrattazione a livello decentrato perché è necessario andare incontro alle esigenze dell'utenza attraverso una contrattazione che metta il personale e i lavoratori nelle condizioni di meglio operare e da questo punto di vista una buona contrattazione che permetta di alzare i livelli retributivi e di conciliare i tempi di vita e di lavoro è assolutamente indispensabile. Sul tema turismo in provincia di Foggia, territorio, formazione e contrattazione, la Fisaskat di Foggia ha promosso un focus a bieste. Noi crediamo che portando all'interno di un unico contenitore tutte le esigenze, quelle delle aziende perché è giusto che si faccia imprenditoria e si crea ricchezza ma che allo stesso momento si possa dare sia condizioni di lavoro sempre migliori, sempre di qualità per dare all'utente finale che poi sono italiani, stranieri che scelgono il nostro territorio, un servizio sempre migliore. Fondamentale può essere il progetto di un modello di turismo per la Daunia che coniughi mare, siti religiosi, percorsi culturali e no gastronomia. Un modello di turismo che guardi al suo insieme, che guardi ai vari aspetti bellissimi di questo territorio, metta insieme le tante caratteristiche per dare anche un'offerta turistica importante e di qualità. Un turismo perché no destagionalizzato, con grande anche attenzione a quello religioso, considerato quello che abbiamo, l'importanza che ha questo territorio in termini religiosi, ma anche un turismo che guardi al collegamento con la cultura, con l'arte, con l'enogastronomia, considerati tanti tanti prodotti di eccellenza.